Ciao a tutti, io sono Emanuele e vi presento Perfrutto, un servizio di frutticoltura di precisione per rendere semplice una cosa molto complessa. Si perde semplicemente da delle misure di diametro e Perfrutto è un portale che dà una previsione di crescita. In questo modo l'agricoltore sa se la sua frutta sta crescendo bene e può intervenire in tempo reale modificando l'irrigazione o la concimazione. Per ora lavoriamo su Mego e Pero ma per il futuro vogliamo espanderci su nuove specie soprattutto agrumi molto importanti in Sicilia tra cui non solo arancio e limone ma anche clementino.